A Federico, buonasera, allora sei tornato da questo giretto, sei andato a farti una scampagnata di 1800 km in un giorno, sei andato via con il nostro DDS GT Air a bordo di questa Arley, adesso ci dirai un po' della tua esperienza di 20 ore. Parliamo del casco immagino, allora il casco mi ha colpito per il comfort, per la vestibilità, per i pochissimi frusci, merito anche della moto sicuramente. Per ciò che dice sono cose non vere, sono cose non vere, perché non ci sono testimoni. Anche lui, lui ha usato uno Shoei, un modulare, di la tua. Dico la mia, quindi è, no non è quello però, dico la mia, l'importante, bello, siamo felici, siamo contenti, ci ha protetto, l'ho sempre usato chiuso, pensavo di usarlo anche aperto per fare le foto, invece non abbiamo avuto tempo, però era comodo, sono stato felice, contento, ma anche con l'acqua, anche con l'acqua, è andato bene, chiudendomi dentro per bene, è andata la grande. Ti sei mai appannato? Ti fischiano le orecchie? Ah, bravo, non sei mai appannato, io facevo apposta ad alitarci dentro, ma veramente non c'avevo niente da fare, quindi proviamo, volevo fare i cuoricini, le stelle per fare qualcosa, far passare il tempo e non si appannava. sarà anche per la velocità, ci stava crollando addosso il tutto, penso abbiamo fatto 1800 km e andando tutto bene, ora un back drop e ci crollava addosso, penso che figata, la cosa più bella, comunque no, è andato alla grande. Benissimo anche il mio, quindi grazie Arley, grazie Joy. Federico Aliverti, motociclismo. Beppe Vertemati, collaboratore di motociclismo. Ci metto la testa, buonanotte, ci metto la testa, buonanotte.